Cirinna E quest'anno il Comitato Resistenza e Costituzione del Piemonte istituito nel 76 dedica una pagina particolare alle donne o meglio al momento in cui le donne poterono votare nel 46 per l'elezione dell'Assemblea Costituente Abbiamo ospite Nino Boeti, Vice Presidente del Consiglio regionale nonché Presidente del Comitato Questo lungo cammino intrapreso dalle donne per arrivare a una piena parità di diritti come prevede la Costituzione se pensi che solo nel 63 sono entrate in magistratura è completato questo cammino o secondo lei c'è ancora da fare? Credo proprio che non sia completato basta guardare il fatto che solo oggi il Consiglio regionale approva una legge diciamo contro la violenza sulle donne è un percorso ancora diciamo così di là da venire Lei ricordava che il Comitato è nato nel 1976 in Piemonte quindi anche il Comitato ha percorso una lunga strada quando il Piemonte il terrorismo rosso e nero uccideva magistrati, poliziotti, giornalisti ed era nato per riaffermare il senso dello Stato e il valore delle istituzioni in questi anni dal 1976 il Comitato ha tenuto vicino a sé la memoria occupandosi di resistenza l'anno scorso ricordo che c'è stato il settantesimo della liberazione quindi sono molte le iniziative che abbiamo organizzato Ecco sempre sul tema della parità dei diritti c'è un progetto particolare che il Comitato sta preparando C'è un progetto particolare come diceva lei quest'anno teniamo vicino a noi la memoria relativamente al settantesimo dell'Assemblea Costituente e in quell'Assemblea Costituente ci fu per la prima volta il suffragio universale cioè le donne per la prima volta poterono votare ed essere votate eleggere ed essere elette ricordo che in quell'Assemblea Costituente furono elette tre donne piemontesi furono 21 le donne elette complessivamente tre piemontesi Angela Minella, Rita Montagnana e Teresa Noce il nostro obiettivo quest'anno è quello di organizzare degli incontri in un teatro della città di Torino tra una partigiana, quindi le donne che hanno fatto diciamo così quei venti anni, quei lunghi venti mesi della liberazione una giornalista del Tg3 lo ringraziamo naturalmente per la disponibilità la giornalista del Tg3 per la collaborazione e una testimoniale del nostro tempo in maniera da seguire il lungo percorso che le donne hanno fatto per arrivare fino a questo momento e per rappresentare non solo il passato del nostro paese ma anche il futuro e il Comitato ha anche obiettivi che vanno oltre però la parità dei diritti ovviamente oltre la parità dei diritti per esempio per le scuole organizzate parecchie iniziative ovviamente le scuole rappresentano uno dei nostri punti di riferimento perché i ragazzi non sempre sanno quello che è successo noi organizziamo anche qui da 36 anni un concorso nelle scuole che ha l'obiettivo di portare poi circa 300 ragazzi piemontesi a visitare i campi di concentramento campi di concentramento tedeschi l'anno scorso sono andate a Mauthausen la risiera di San Sabba e l'anno scorso le abbiamo mandate anche a Zebrenica perché a Zebrenica 20 anni fa non 70 anni fa nell'arco di due giorni furono uccise circa 8 mila uomini nella città di Zebrenica pagine di storia fondamentale che seguiremo nel corso del nostro telegiornale facciamo vedere ai ragazzi che quello che è successo può ancora succedere grazie